Buongiorno a tutti cari amici, siamo qui al convegno di ufologia città di Pomezia, organizzato dalla dottoressa Francesca Bittarello con un ospite molto importante, le presentazioni ovviamente le farò fare a lui, anche l'anno scorso abbiamo fatto questa intervista che è andata molto bene sui canali di Youtube, molte persone hanno scritto sotto perché non fate una conferenza insieme, ho detto guarda in un prossimo futuro, infatti ho detto pure io in un prossimo futuro organizzeremo un convegno insieme. Adesso lascio la parola al nostro amico Pier Giorgio Caria e ci spiegherà quello che praticamente lui in questi ultimi giorni ha studiato, le sue ultime opere, i suoi ultimi libri e poi di quello che parlerà al convegno di oggi. Sì, allora, intanto grazie per questa intervista, è sempre importante parlare con le persone, seppur attraverso una telecamera perché ritengo dopo 30 anni di studi in questo settore, quindi nel settore della visita extraterrestre, con tutto il corollario di quelle che sono le materie legate a questo tema, quindi cerchi nel grano e tante altre cose che il pubblico conosce. Bene, iniziando nell'aspetto di quella che è la classica ufologia, quindi il fenomeno, il disco volante, l'avvistamento e così via, nel tempo mi sono chiesto anche la ragione, il perché di questa visita, della quale ormai grazie a tutte le prove, le testimonianze ex militari, ex agente segreti o addirittura personale militare in carriera, ci hanno dato, ovviamente considerando anche quelle che sono le foto e i filmati, comunque sono un bacino importante e probatorio, è vero che ci sono tanti falsi, ma è vero anche che c'è tanto materiale assolutamente genuino, e quindi nel tempo questa ricerca è diventata anche una professione, quindi sono diventato un documentarista da ex ferroviere, ho abbandonato quel tipo di vita, mi sono dedicato quindi prima alla ricerca, poi alla documentaristica, ho avuto modo di lavorare con importanti emittenti nazionali, qui in Italia, soprattutto con la RAI, ho collaborato per parecchi anni al programma Voi, Voyager che credo tutti voi conosciate, come ovviamente autore dei documentari, quindi il mio nome non figurava, varie volte Roberto Giacobbo mi ha invitato anche come esperto nei suoi programmi, addirittura sin dai tempi in cui lui conduceva Stargate alla 7, e dopo varie volte sono stato ospite suo come esperto, ricercatore nell'ambito appunto del programma Voyager, anche con le tv private di Mediaset, ho avuto modo di varie volte essere intervistato sui temi che io studio e ricerco, i miei documentari, quindi non solo sono andati in onda qui in Italia, ma un po' in tutto il mondo, dal Giappone, Hong Kong, Arabia Saudita, Stati Uniti, insomma, le mie opere hanno girato un po' il pianeta, e nel tempo ovviamente una risposta, una volta avuta la prova certa, che tra l'altro da ricercatore sono diventato anche testimone del fenomeno, una volta avuta la prova certa che questi esseri sono qui nel nostro mondo, la domanda successiva è chi sono, perché vengono e cosa vogliono, perché considerando, facendo un paragone con quella che è la nostra condizione in relazione al mondo dell'astronautica, sappiamo bene quale sforzo tecnologico, industriale, economico rappresenta il lanciare degli esseri umani nello spazio, che è un tema o comunque un ambito estremamente più complesso del lanciare delle semplici sonde robotiche, quindi siccome abbiamo la prova provata che molte umanità hanno inviato nel nostro mondo una spaventosa quantità di mezzi spaziali e anche di piloti, la domanda è, ma perché a seguito di uno sforzo così enorme non ci hanno ancora contattato pubblicamente? E quindi, avendo trovato le risposte a questa importantissima domanda nel convegno che c'è oggi qui a Pomezia, 13 maggio 2018, tra l'altro data fatidica perché è l'anniversario della prima apparizione che c'è stata a Fatima in Portogallo, dove poi sono state date quelle famosissime profezie, tra le quali l'ultima, il terzo segreto di Fatima, ancora non del tutto svelato dalla Chiesa Cattolica. Quindi in questa ricorrenza importante, qui a Pomezia, a questo convegno organizzato dalla bravissima, attivissima e dinamicissima Francesca Bittarello, parlerò proprio di quali sono gli aspetti che io ho scoperto che motivano la presenza di questi esseri nel nostro mondo e anche spiegano il perché di questa strana metodologia di approccio all'umanità. Ci sono, si fanno vedere, non atterrano, dopo 70 anni ancora non sono atterrati, perlomeno pubblicamente. Ci sono stati degli atterraggi in varie parti del mondo, ci sono stati degli incontri, sappiamo con certezza che personaggi umani sono saliti a bordo dei dischi volanti. Oggi, tra l'altro, è presente qui a Pomezia il carissimo amico Gaspare De Lama, che io ho conosciuto nell'ambito della mia ricerca sul caso amicizia, che non ha, lui personalmente non è mai salito sui dischi volanti, ma ha avuto delle interazioni con questi esseri, ma altri del gruppo di amicizia a bordo dei dischi volanti ci sono andati. Addirittura sappiamo che alcuni componenti del gruppo amicizia hanno ricevuto delle vere e proprie lezioni di volo, cioè di poter pilotare i dischi volanti. Quindi, in questo ambito appunto presenterò e parlerò delle mie ricerche, delle mie scoperte sul perché questi esseri si comportano così. Quindi cercare di dare una spiegazione al fatto chi sono, perché vengono e cosa vogliono. Infatti noi abbiamo mandato delle sonde nello spazio per cercare di contattare forme di vita aliene. E qualcuno ha detto, è una cosa giusta fare questo? Perché se gli alieni sono persone buone, cioè intelligenze di altri mondi, che praticamente vengono in pace, è una cosa giusta, è una cosa fattibile. Ma se vengono per fare la guerra, se vengono per colonizzare il nostro pianeta? È una bella domanda, ma è una domanda a cui un ricercatore che da 30 anni studia il fenomeno e ne è consapevole, anche come testimone, non abbiamo nessuna prova di questo. Cioè che noi siamo visitati da alieni negativi. Io tutto il male che vedo nel mondo, a partire dalla povertà, dall'ingiustizia sociale, fino ad arrivare alle bombe nucleari, che sono la più grande follia, ma è tutta roba fatta da noi. Cioè siamo noi la causa dell'inferno che c'è sulla Terra. Me li fate vedere questi alieni che distruggono il mondo? Dove stanno? Se fosse vero che ci sono intelligenze come qualche da me definito pseudo-ricercatori a ferma, che ci governano da un mondo invisibile, ma se ciò fosse vero qualcuno mi dovrebbe spiegare come mai Caria è una persona libera, non è influenzata, fa le sue scelte di vita e le ha fatte come ha voluto. Dov'è l'alieno che mi costringe a essere cibo di energia negativa per alieni? Non lo vedo. Quando io ho deciso di fare una scelta, l'ho fatta. Chi mi ha fermato? Non mi hanno fermato questi ipotetici alieni negativi? Io vedo che il male che c'è in questo mondo lo fa l'uomo. È l'uomo che ribelle alle leggi dell'amore e della fratellanza, è l'uomo che distrugge il pianeta, è l'uomo che uccide il fratello, è l'uomo che speculando sul denaro affamma i popoli. Dove stanno gli alieni negativi? Poi qualcuno mi dice, ma quelli che fanno così sono ipotenti, quindi che sono la causa di questi mali, spiegano questi personaggi, sono compenetrati da questi alieni negativi. E io dico, va bene anche questo, ma allora il popolo? Perché il popolo non reagisce ai dettami e ai valori sbagliati che i potenti ci propongono, ammesso e non concesso che siano alieni sotto falsa identità. Se Caria ha potuto fare la scelta, nonostante i potenti siano alieni negativi, penso che, come l'ha fatta Caria, che è un semplice figlio di contadini, la possa fare chiunque. E quindi dove sta il problema? Ma è illogico, è illogica questa storia, perché quando noi decidiamo di fare un cambio nella nostra vita, lo possiamo fare. Nonostante gli Illuminati, nonostante il Bilderberg, nonostante l'NSA, la CIA, il KGB, tutto quello che mi si può portare davanti. Io ho girato il mondo, sono stato nelle centrali atomiche e militari, sono stato nelle caserme militari, sono stato con scienziati, con politici, con cosmonauti. E quindi dove sta il problema? Quindi non c'è un problema, c'è un problema che è l'uomo che non vuole cambiare la sua attitudine. Non c'è l'alieno negativo che ci domina, anche perché, se posso aggiungere un'altra cosa, rispetto agli altri mondi, noi siamo alieni. Quindi il presunto ipotetico essere che vive su un pianeta di Sirio, per loro noi rappresentiamo gli alieni. Quindi noi siamo la prova che esistono gli alieni negativi. Ma noi, che siamo gli alieni negativi dei presunti abitanti di Sirio, non viaggiamo nel cosmo, perché la nostra struttura sociale, basata sulla soprafazione del più forte contro il più debole, ci impedisce di poter sostenere lo sforzo di un viaggio astronautico verso le altre stelle. Quindi, siccome, nonostante la nostra ingegneria astronautica sia a tutt'oggi primordiale, perché lanciamo solo sonde robotiche che circolano un po' nel sistema solare, ma non abbiamo ancora gli astronavi che superano la velocità della luce, che possono andare sulle stelle distanti, miliardi di anni luce. Quindi siamo prigionieri nel nostro mondo e andiamo da un collasso sociale all'altro, perché ancora noi non abbiamo potuto, cioè non siamo riusciti a sviluppare, una società etica dove finalmente la fratellanza tra i popoli regni sovrana. Quindi, in un mondo dove esistono le tecnologie che vengono usate per il male e quindi ci si fanno le guerre, non ci si arriverà mai al volo spaziale. Quindi, se non ci arrivano gli alieni terrestri, non riesco a capire perché ci dovrebbero arrivare gli alieni extraterrestri. E' una fesseria, è una sciocchezza, perché qualsiasi civiltà non etica, quando sviluppa la scienza e la conseguente tecnologia, la usa per fini bellici prima. E' una stupidaggine pensare all'alieno negativo che è affrattellato nel suo mondo e si allea per andare a conquistare gli altri mondi. Lo vediamo nel nostro piccolo. I banditi rubano dalla banca, poi una volta che hanno il bottino in mano si scannano tra loro per accaparrarsi la parte maggiore del bottino. Quindi questa logica, se vale sulla Terra, vale anche da altre parti. Quindi l'alieno negativo sicuramente esiste perché esiste sulla Terra, vedendoci noi come alieni rispetto ad abitranti e di altri mondi. Ma così come sulla Terra, tutti gli alieni negativi che stanno nei vari mondi e stelle dell'universo sono come noi, prigionieri nell'un mondo e vanno da un caos all'altro. Noi abbiamo avuto la civiltà sumera, accaduta la civiltà egiziana, accaduta la civiltà greca, accaduta la civiltà romana, accaduta perché in questo mondo l'uomo ancora non è riuscito a sviluppare delle società etiche e quindi ci autodistruggiamo. Così come ci autodistruggiamo noi, si autodistruggono tutte le civiltà aliene negative. Quindi il volo spaziale si può fare solo quando l'evoluzione spirituale di una società comprende il sublime valore e anche la necessità pratica dell'etica perché sviluppare un grande potere per poi perderlo, che senso ha? Poi c'è un'altra cosa, tutto questo che noi ipotizziamo ha un valore sul piano fisico e ci dimentichiamo, amici, spesso che noi moriamo, c'è anche un al di là che esiste. Quindi la vita dell'uomo, considerando anche l'ovvietà delle assurdità dei credo religiosi perché gli islamici, i buddhisti, gli induisti, gli animisti, gli atei, tutti nasciamo, cresciamo, invecchiamo e moriamo. Quindi la natura, le leggi naturali, ci indicano con chiarezza che i credo religiosi sono degli inganni, perlomeno così come ci vengono proposti. Quindi così come la vita dell'uomo è regolata nel piano fisico, è regolata da leggi naturali, anche la vita nell'aldilà è regolata da leggi naturali e queste leggi, che in Oriente vengono chiamate leggi del karma, qui le chiamiamo leggi di causa ed effetto, impediscono e sanzionano le nostre azioni negative. Quindi fino a che noi non metteremo in pratica solo azioni positive, non ci evolveremo. Infatti, poi la tecnologia di un altro mondo, di un altro sistema solare, potrebbe essere molto più avanzata della nostra. Certo, lo è per forza, perché se loro sono arrivati fino a noi e abbiamo la prova certa che sono arrivati fino a noi, è ovvio che la loro tecnologia è superiore. Quindi se hanno una tecnologia superiore e ci volessero invadere, l'avrebbero già fatto da secoli, visto e considerato che abbiamo le prove certe archeologiche e diciamo didattiche attraverso i testi sacri che questi esseri e anche altri testi antichi, che questi esseri sono qui da millenni, da tanti millenni. Quindi se ancora non siamo dominati da questa gente, è ovvio che le loro logiche non sono le nostre. Sì, infatti. Perché io ho sempre pensato, io studio il controllo mentale, come te sai bene, molte persone dicono di essere addotte, però tante di queste persone dicono che vedono militari, non vedono alieni. Esatto. Poi abbiamo, oggi sai benissimo che già da decenni sono state studiate le cosiddette armi psicotroniche, quindi si può inquinare la memoria di una persona con falsi ricordi, si possono far credere alle persone di aver vissuto cose che non esistono, cioè si possono vendere luciole per lanterne. Quindi io che faccio ricerca a livello internazionale da tantissimi anni, non ci sono le prove, non c'è nessuna prova che ci siano alieni negativi. Abbiamo prove invece assolutamente certe che i governi inquinano questa tematica perché hanno un terrore assoluto che questi esseri un giorno scendano senza chiedere il permesso a nessuno perché sarebbe la fine del loro dominio sui popoli. E quindi è ovvio che inquinano anche attraverso presunti o falsi rapiti o comunque manipolazioni mentali inquinano la tematica perché così spaventano le persone che stanno lontane da questo tema che è quello che loro interessa. Cioè che la gente non si interessi di questo tema perché questo tema potrebbe liberarci dal dominio e dal gioco di coloro che oggi ci sfruttano che sono terrestri non extraterrestri. Infatti se qualcuno dice che viene rapito dagli alieni o qualcuno dice che è manipolato dal controllo mentale gli definiscono subito dei pazzi e dei malati di mente. Assolutamente. Infatti molte vittime del controllo mentale credono a cose surreali. Certo. Alcuni credono che vengono ripetiti dagli alieni alcuni pensano che siano i vicini di casa che li attaccano a queste tecnologie altri invece credono che sono persone che hanno il dono di rilevare determinate frequenze invece che altre. Dai nostri studi abbiamo capito che sono sensibili ai campi elettromagnetici e attraverso l'elettricità possono indurre delle patologie che vengono percepite dal nostro cervello e dai centri nervosi centrali e possono modulare al loro piacimento. Esatto. Se noi pensiamo che 20 milioni di persone in Italia possano essere manipolate con determinate frequenze per creare danni fisici o psicologici posso dire una cosa? Sì. Allora da alcuni mesi faccio un esperimento un test l'ho fatto anche ieri ho fatto una conferenza ad Ancona la sala era quasi piena credo ci fossero più di cento persone chiedo al pubblico alzi la mano chi mi sa dire cioè scusa alzi la mano chissà che l'Italia ha un grande debito pubblico secondo te quanta gente alza la mano? Poghi. No tutti. Tutti? Tutti sanno che abbiamo un debito pubblico il problema è la seconda domanda bene tutti sapete che abbiamo un debito pubblico sì certo che lo sappiamo bene adesso alzi la mano chi mi sa spiegare la natura è l'origine dal punto di vista economico del debito pubblico non alza la mano nessuno allora io dico ma cari signori ma voi vi rendete conto? Voi sapete di avere un grosso spaventoso debito pubblico non sapete da dove viene non sapete chi l'ha fatto non sapete perché cresce ma se voi non sapete da dove deriva il vostro debito voi siete falliti non avete speranza di un futuro perché chi ha un debito che cresce e non sa perché è fallito infatti l'Italia sta fallendo il 50% della piccola media impresa è già chiuso gli imprenditori si suicidano gli operai che perdono il lavoro si suicidano e non sappiamo perché quindi se non sappiamo spiegare il debito pubblico altro che controllo mentale non c'è bisogno siamo talmente ignoranti o deficienti non lo dico come offesa lo dico come termine che deriva dal verbo latino deficere cioè siamo talmente carenti di informazione e di consapevolezza perché un essere umano che sa di avere un debito e non se ne preoccupa è già uno che mentalmente non sta bene quindi non c'è bisogno dell'MK Ultra non c'è bisogno del Monarch la gente è già istupidita dalle normalissime notizie dei media non c'era bisogno del Monarch quelli sono già ambiti di alta guerra psicologica ma la persona comune è già sufficientemente manipolata e stupidita da TG com da TG com da Sky da TG Rai News 24 TG1 TG2 TG3 la gente è già istupidita da questa classe di prostitute che si chiama giornalisti che mentono sapendo di mentire sono a soldo del potere quindi questo è il problema il controllo mentale alla fine non è un grosso problema per la grande massa perché la grande massa è già stata fatta a pezzi dalla normalissima disinformazione le fake news del regime che è quelle che tutti noi ascoltiamo nei telegiornali e che formano la nostra visione della realtà che è una visione allucinante di gente che ha un debito e non sa perché infatti le fake news sono notizie false che servono proprio per non far capire alle persone la reale situazione l'altro giorno la Russia ha portato 17 di quelle persone che ci hanno fatto vedere nei TG presuntamente gasificate da Assad non era vero le hanno portate al tribunale internazionale dell'AIA le stesse facce che abbiamo visto nei TG pseudo gasificate da Assad sono andate a testimoniare che non era vero niente è entrata questo gruppo di gente i caschi bianchi sono entrati lì hanno incominciato a tirare acqua in faccia alla gente a gridare di gas e la gente si è spaventata questi si sono avvicinati hanno fatto finta di fare qualcosa ma avevano il cameraman appresso e tutti i TG nazionali hanno trasmesso che quelli erano i filmati dell'attacco con i gas di Assad ma stiamo scherzando come le torri gemelle come le torri gemelle sono arrivati questi aerei così all'improvviso e nessuno si è accorto di niente quindi l'occidentale medio è immerso in una palude escrementizia di menzogne si è formata un'idea della realtà che è assolutamente falsa tutto o quasi tutto a parte i delitti di quartiere che ci trasmettono con chiarezza tutti i giorni è tutto falso c'è un'intervista del generale Wesley Clark che è stato uno dei massimi comandanti della NATO nella guerra del Kosovo quindi personaggio di altissimo livello che nel 2007 è stato intervistato da Democracy Now e ha detto anni fa nel 2000 ancora non erano accadute le torri se non vado errato forse erano accadute comunque anni fa molti anni fa è stato chiamato negli uffici del Pentagono e gli hanno detto in cinque anni distruggeremo cinque nazioni Iraq Libia Afghanistan Siria sette nazioni Iran e un'altra e perché ce non lo so dice probabilmente quando tu hai in mano un martello qualsiasi problema deve assomigliare a un chiodo quindi questi hanno deciso a tavolino di fare del Medio Oriente quell'inferno che ha tutt'oggi e che ci sta portando se non stiamo attenti verso una terza guerra mondiale è stato deciso a tavolino negli Stati Uniti d'America tutti i racconti i talebani Al-Qaeda Al-Nusra Isis bugie vedetevi il film Sesso e Potere con Robert De Niro e Dustin Hoffman lì c'è spiegata la metodologia dell'Occidente di costruire le fake news che diventano le notizie che voi cari concittadini tutti i giorni vi assorbite a colazione a pranzi a cena e che fanno del vostro cervello un territorio conquistato da altri Io ti ringrazio io vorrei continuare un'ora due ore però purtroppo mi dicono che devi fare Sì adesso arriva il momento della mia relazione La tua relazione Allora io ringrazio Giorgio Ocheria per questa nuova intervista spero un convegno insieme perché parleremo di controllo mentale di tutto e di più così la gente comincerà a capire anche le armi psicologiche Non so se te l'ho raccontato forse te l'ho già raccontato ma io quando ancora questi discorsi sul controllo mentale in Italia erano misconosciuti io ebbi contatti con gente che già aveva avuto esperienze dirette provate che l'MKUltra e il Monarch sono già presenti in Italia nelle sfere di potere e vengono usati e poi anni dopo viene fuori il caso del magistrato Ferraro che ha dimostrato senza possibilità dismentita che effettivamente in ambito militare politico questi sistemi di controllo vengono ampiamente usati infatti io ho un ricercatore Stefano Di Felce e Mirtillo che purtroppo adesso non c'è più che quando lui ha fatto elettro crimini ha fatto un video proprio di una sua ricerca ha parlato proprio del controllo mentale di queste armi psicodroniche di come le frequenze dei ripetitori radio interagiscono con il nostro cervello creando proprio la manipolazione sono certo che comunque in quella che è la manipolazione attraverso le fake news in realtà c'è un appoggio di induzione che favorisce l'acquisizione di questo tipo di di notizia che sono le onde a bassa frequenza attraverso i ripetitori della telefonia cellulare e altri quindi so che queste tecnologie sviluppate in ambito di controllo mentale sono usate massivamente ma se Caria ha potuto liberare la sua mente da tutta sta schifezza penso che con il giusto sforzo qualsiasi cittadino e qualsiasi essere umano lo possa fare perché comunque piaccia o non piaccia a certi signori le forze del bene sono molto più forti e quindi il vostro tempo è quasi finito ok ringrazio per Giorgio Caria grazie a te ti lascio per la conferenza della nostra amica Francesca Bittarello grazie a te un saluto a voi amici saluto a tutti grazie a te